Amici di Automoto.it siamo in Sicilia intorno allo spettacolare Etna per provare la gamma Jeep adesso siamo con la Cirochi in un fuoristrada anche a tratti impegnativo vediamo come si comporta ciao a tutti ciao a tutti Siamo con il collega Edoardo Baldi alla guida della Brangler Rubicon che è la versione più prestante da fuoristrada adesso abbiamo le ridotte inserite guado fatto andiamo a portare un piccolo passaggio nel cammeto molto stretto la motricità è esagerata di questa macchina e il motore 3.600 V6 fa il resto potentissimo a 200 kg rocce la luce da terra molto alta abbiamo le ridotte e le 4 ruote motrici inserite ovviamente questa è la regina del fuoristrada in casa Jeep e direi non solo in casa Jeep che dice Edoardo giusto? fantastica ciao a tutti e ben arrivati al nostro dopo di più si sta interni e poi quando siamo a centro fuoristrada bisogna guardare un'attesa siamo arrivati